Quanto sapete del mondo delle stampanti 3D, dei prototipi, e questo lo devo dire lentamente perché sennò diventa uno scioglilingua, e delle prototipazioni. Ok, ce l'ho fatta. Con noi abbiamo Luca Sentimenti, benvenuto. Buonasera. Con te parliamo di Fenice Prototipi, ma prima di arrivare a raccontare quello che vi distingue da questo mondo, da tutti i vostri competitor, partiamo da quello che è il mondo intorno a voi. Sì, fondamentalmente quando si va a mettere in produzione un qualsiasi soggetto, un qualsiasi prodotto appunto, il tutto parte da un'idea di un ufficio di progettazione, di un marketing, eccetera, eccetera. E quindi viene creata l'idea, ma dal momento in cui l'idea viene creata, il momento in cui viene effettivamente prodotto, c'è una fase centrale, è la prototipazione, cioè la creazione del one-off, del primo vero prodotto. Ecco, e questo è un po' quello che succede anche. Voi siete l'anello mancante, no? Questo anello che tante volte diventa difficoltoso per chi ha un progetto, ha un'idea di design, per chi invece produce su larga scala. Questi due mondi a volte non si incontrano per un sposto proprio di costi e che arrivate voi. Sì, esattamente. Noi sfruttiamo diverse tecnologie appunto atte alla prototipazione e in particolar modo stampanti 3D piuttosto che altre tecnologie tradizionali per creare dei piccoli prodotti finali, diciamo. Possono essere modelli, possono essere perfettamente funzionanti. Voi avete quindi guardato un po' quello che è il mondo intorno, perché il mondo delle stampanti 3D è un mondo che si fa strada ormai da un po' di anni, da più di una ventina di anni. È assolutamente ricco, sì. Però voi avete fatto qualcosa di anche coraggioso, se vogliamo. Certo. Cosa avete fatto? Esatto. Abbiamo preferito optare su delle macchine di, come dire, da hobbistica o comunque delle macchine abbastanza semplici e migliorarle, implementarle e andarle a fare competere in un mondo del business, quindi delle vere e proprie prototipazioni per, immaginate, non so, automobili, telefoni, seggiole, cose proprio oggetti comuni di tutti i giorni. Quindi dei settori più diversi si possono rivolgere a voi? Esattamente. Trovando appunto quell'anello di congiunzione che mancava prima. Sì, sì, per esempio. Facciamo qualche esempio dei settori che possono essere... Beh, sicuramente per esempio il fashion, tutto il mondo delle vetrine, faccio un esempio, o il design, appunto ci sono capitati oggetti molto particolari, molto articolati, proprio perché gli stampanti peraltro permettono una libertà di design, di forma che in precedenza non era assolutamente possibile raggiungere. In più anche tutto il mondo del packaging e dell'industriale e per finire proprio il mondo dell'automotive che ne fa largo uso di questa tecnologia. E tra questi settori avete già tantissime collaborazioni in attivo? Assolutamente sì, per esempio nel 2022 abbiamo avuto una partnership tecnica con un team del campionato italiano velocità, il team Gresini. E questo insomma da lustro? No, assolutamente, è stata una cosa emozionantissima per noi, peraltro insomma vedere che i nostri particolari venivano direttamente montati e sono emozionati da competizione e poi vedere questi boli di sfrecciare di fronte a noi perché poi venivamo invitati ovviamente alle gare, è stato veramente molto emozionante. Allora andiamo, perché ne abbiamo un po' parlato così tra le righe, andiamo proprio ad elencare quelli che sono i tanti vantaggi del servizio che offrite. Sì, beh a parte offrire appunto una prototipazione molto economica detta proprio fuori dai denti e che quindi permette ovviamente di tagliare oltre che i tempi anche i costi di questa fase che inizialmente per qualunque azienda o comunque chiunque si voglia cimentare nella creazione di qualcosa è molto dispendiosa a livello proprio senza ritorno. A volte è anche scoraggiante. A volte assolutamente sì, ma il vantaggio appunto di avere oggetti ottenuti in maniera molto rapida e poi peraltro con prezzi relativamente economici ci permette anche di servire aziende in maniera continuativa quindi fare proprio delle vere e proprie produzioni di centinaia di pezzi. E questo proprio perché avete in qualche modo adattato a quella che è la vostra idea delle macchine offrendo così un servizio completo in ogni sua fase. Sì. Bene. Io ringrazio allora Luca Sentimenti, grazie di essere stato con noi. Grazie a te. Grazie di averci raccontato il mondo della prototipazione ma soprattutto di averci raccontato dei fenice prototipi. Grazie mille. E così quando c'è un anello di congiunzione che manca bisogna trovare delle soluzioni e noi ve ne abbiamo appena raccontato un'altra qui su Startup. Grazie a tutti.